Benvenuti come sempre su The Passa del Capitano, questa volta è in onda una trasmissione sulla scuola calcio della SLS Colonna, che quest'anno è capitanata, stagione con una borsa in attrezza da Dani e Fedeli. Dani e Fedeli, che come vetrina del posizio nella trasmissione, ci spiegherà una seduta nell'allenamento. Durante la settimana l'allenamento sarà effettuato su tre giornali settimanali, di cui una il mercoledì, se non erro, verrà seguita con tutte le squadre facendo parte della scuola, ossia i nati da 2004 a 2000. I ragazzi quindi potranno lavorare in sintonia tra di loro, insomma i più piccoli possono imparare dai più grandi, e i più grandi possono rendersi conto di quanto sono cambiati durante il corso degli anni. e poi è la fine dell'anno. In the crowd and I'm walking in the wild west end Pink toenails and hands are home, dirty with the money, greasy, 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 greasy All'inizio della stagione si eseguono i test d'ingresso. Si procede quindi all'accertamento delle caratteristiche fisiche, atletiche e tecniche di ogni singolo baby calciatore. Questi dati sono utili alla fine della stagione per verificare gli sperati miglioramenti che ogni singolo calciatore ha ottenuto. Grazie a tutti! Iscriviti al nostro canale Metti di dritto, 1,38 e mezzo, ma guarda! Chi è? Simone e Mari Metti bene del dietro 136 Le bambino Le bambino Le bambino Le bambino Geli Autore dei sottotitoli e 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 la velocità, quindi tutte cose che nel calcio sono fondamentali, la rapidità sulla navetta in quel caso, stiamo facendo adesso. Stazione numero due invece in cui si lavora sulla tecnica di base, in questo momento i bambini stanno effettuando il palleggio alternando il piede destro al piede sinistro e questa fase si alternerà alla conduzione utilizzando l'interno e l'esterno del piede. Andrea, fai la conduzione in cui appunto fanno un giro intorno al cinesino cercando di aumentare la rapidità del gesto. Questa è una stazione che dura circa 18-20 minuti. Poi di qua invece abbiamo un lavoro sulla coordinazione, stanno i più piccolini in questo momento che stanno lavorando laggiù sul coordinatore di frequenza, applicato poi un gesto tecnico perché ci sta un piccolo slalom e una conclusione in porta. Mentre a metà del gruppo qua stiamo lavorando, si sta provando a saltare la corda, si sta provando perché non è in genere facile, però piano piano arriviamo a farlo. E infine l'ultima stazione, con Mr. Daniele, è una stazione tattica, un 2 contro 2, in cui da ora è fatto una navetta di rapidità 8 metri più 8 metri, parte una situazione d'attacco dove i due blu in questo caso andano a fare gol contro i due bianchi per il tiro, mentre i due bianchi cercano di difendere. L'azione si conclude o con il gol oppure con un passaggio al portiere da parte del difensore. Anche questo è un lavoro continuo, quindi il gesto e l'azione successiva parte al momento che si conclude l'azione precedente. Allora, innanzitutto, volevo farvi una domanda. Questa è la tua domanda, però la mia domanda, la vuoi sentire la mia domanda? No. Sì. Allora, innanzitutto, volevo farvi una domanda. Ti è piaciuto? Sì. Dipende. Alcuni sì, alcuni no. Mi è piaciuto questa e qua l'ultima. Alcuni no, però se tu dici alcuni sì e alcuni no, già significa che erano tanti. Quanto? Eh. Sono tanti. Cioè, sono quattro esercizi. Ma entrando all'esercizio ce ne stavano più di uno, no? Sì, quello qua ce ne stanno tre. Ce ne stavano tre, e erano quattro, c'è già sessi, e erano cinque, sono norti, e quello è uno, due, metti qui in sull'attacco, dieci, unici. No, mister, qua sono quattro. E' un'unica? Cioè, no, snalom, dieci, due, 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 due. Erano più di uno, erano dodici esercizi più o meno, dodici giochi esercizi. Insomma, alcuni facili, alcuni più o meno facili. Quindi vi siete divertiti? Sì. Ok. Che ve ne pare di fare il terzo allenamento? Sì. Vi torna utile? Sì. Adesso. Benissimo. Allora, adesso, come abbiamo, come abbiamo, vogliamo un'intenzione del mister che ci ha aiutato? Sì. Ti conosciamo anche meglio, eh? Allora. Io lo faccio lì, Andrea. Andrea, che è mister della? Della tattica. Della tattica. Tecnica. Tecnica. E poi, sulla coordinazione ritmo? Gerardo. Davide. Daniel. Gerardo. Tattica. Non tecnica. Tecnica e tattica. E poi, laggiù sulla coordinazione motoria? Daniel. C'è quello che non fa niente. No. E poi ci sto io che non faccio niente. Bravissima. Allora, adesso, dovete fare una prima cosa. Rimangono, due gruppi, due gruppi rimangono a fare la partita, come avevamo concordato, e i suoi gruppi, invece, andranno a farsi la doccia. La volta successiva faremo al contrario. Allora, a destra che mi hanno aiuto. No, va a passare, no, va a passare. Arriviamo, vai in fondo. Vai. Invenzione in traga. Oh, ho detto che non fanno di passare. Aiuto! Pronti? vai via è facilissimo bravissimo un pallone ma è normale che ancora un pallone Marco ha salito Marco ha salito Marco grazie